benvenuti a fermo tv per questa tornata elettorale ormai ci siamo abbiamo ospite qui con noi in studio Mauro Lucentini della Lega consigliere comunale a Montegranaro ex assessore della giunta eh Gismondi e della giunta basso classe settantatré precedente iscrizione ad alleanza nazionale oggi coordinatore nel territorio e la prima domanda che facciamo appunto a Mauro Lucentini è quella che riguarda la sua candidatura da quali presupposti nasce questa candidatura e quali sono gli obiettivi che intende raggiungere buongiorno a tutti innanzitutto grazie dell'invito eh la mia candidatura nasce dall'impegno politico con la Lega prima Lega Nord e oggi Lega perché come sappiamo tutti è cambiato il simbolo e dall'impegno politico appunto in questo territorio dove per appunto il partito di Matteo Salvini è un territorio ancora giovane ancora vergine e ci stiamo radicando eh molto molto più assiduamente eh ogni giorno che passa di più eh sono come diceva appunto lei eh coordinatore provinciale eh di Fermo e quindi diciamo il rappresentante più adorevole in questo in questo momento nella provincia di Fermo e poi nasce dall'esigenza di portare alcune stanze a Roma e in una posizione la mia candidatura eh io dico media né in prima posizione né in ultima quindi ce la possiamo giocare e quindi poi parleremo anche delle istanze che vorremmo portare a Roma. Certo la diciamo che il suo ruolo di coordinatore nasce proprio sul campo ruolo conquistato sul campo come è stato detto da molti altri esponenti del del suo partito e che cosa rappresenta la Lega oggi in questo territorio nel senso stretto abbiamo anche visto purtroppo molti fatti ultimamente di cronaca che hanno chiamato in causa i vari partiti politici con le proprie stanze una delle stanze fondamentali della Lega è proprio la sicurezza di di quale sicurezza ha bisogno questo territorio in particolare? Ma questo territorio è un territorio conosciuto come terra di pace non è conosciuto come un territorio innanzitutto voglio dire questo altrimenti ascoltando infatti che si sosseguono nei vari telegiornali sembrerebbe che è un territorio di guerriglia no è un territorio di pace e la Lega non a caso si occupa sempre in ogni amministrazione di centrodestra di sicurezza non a caso il candidato lui nominale che è sopra di me alla camera dei deputati per questo collegio fermo Civitanova è Giuseppe Cognini che è assessore alla sicurezza Civitanova Marche non a caso in questo momento noi dobbiamo dare più forza e quindi più soldi per essere chiari perché più forza va tradotto in più soldi più risorse alle forze dell'ordine non dobbiamo sicuramente far farci giustizia da soli come è successo a Macerata quello è un atto che va condannato a prescindere e e poi la Lega ha un bel programma sul discorso immigrazione che è direttamente collegato al discorso sicurezza non a caso il nostro referente nazionale per la immigrazione è il futuro onorevole Tony Iwobi nigeriano che nella Lega ha fatto carriera e molti anni iscritto alla Lega Nord e oggi Lega. Quindi un un po' un portabandiera di coloro che sono invece gli immigrati regolari che sono non soltanto riconosciuti dalla Lega ma anche in questa in questo modo valorizzati quindi la vostra battaglia se così vogliamo definirla è nei confronti dell'immigrazione irregolare e delle responsabilità che la politica ha dimostrato in questo tema fondamentale. La volontà di riconoscere per esempio questo territorio come primo territorio di identificazione come è stato detto in passato e di espulsione degli irregolari come si espleterebbe? Guardi noi intanto abbiamo un mantra che vogliamo seguire e come diceva appunto lei va precisato noi non siamo contro lo straniero che viene in Italia lo straniero che viene in Italia che lavora, guadagna, ha una famiglia con sé, paga le tasse e diciamo riesce ad integrarsi con la nostra cultura e il nostro territorio è benvenuto, il nostro fratello non è per il colore della belle per cui voglio dire dobbiamo discriminare però chi in Italia viene e viene a delinquere e guardi che gli ultimi che sono arrivati dai dati statistici sono quelli i più delinquenti quelli che sono che dovrebbero stare nelle pagine galere, quelli vanno tutti rimandati a casa e quando si parla di questo piano di 600 mila immigrati da rimandare a casa è un piano concreto naturalmente non 600 mila tutti insieme scaglionati perché i miracoli non li fa nessuno ma chi sta in Italia ed è regolare e lavora e paga le tasse è un nostro fratello come tutti gli altri italiani. Per quanto riguarda i temi fondamentali di questa campagna elettorale abbiamo fin qui parlato di sicurezza che è un tema a voi caro come militanti della Lega ma abbiamo tante tematiche fondamentali importanti che aspettano risposte da parte dei cittadini come per esempio il lavoro soprattutto il lavoro ma anche il fisco quindi questo è un territorio in cui c'è un tessuto imprenditoriale importante pur essendo una piccola e media impresa quella che qui abita principalmente quali sono le risposte che siete pronti a dare quali sono le istanze che volete portare in Parlamento per quanto riguarda il lavoro? Io la ringrazio molto per questa domanda perché dico sempre nei miei interventi che cercano di essere brevi e concisi e molto tecnici al di là delle tematiche nazionali che sono le 6-7 tematiche che Salvini ormai siamo abituati a vedere tutti i giorni quindi non vorrei essere qui a ripetere le stesse cose. Li elenco solamente stop alla legge Fornero, la pace fiscale quindi tutte le cartelle sotto i 100 mila euro e le pendenze con Equitalia tolte stop appunto all'invasione con il discorso di migrazione che facevamo prima il sostegno alla natalità e agli asili gratuiti per le famiglie italiane il discorso dell'Europa nessuno parla di uscire dall'Europa ma se i patti per l'Europa ci costringono ad avere come abbiamo sentito il riso cambogiano, l'olio dalla Tunisia e i nostri prodotti ad essere accantonati beh noi forse qualche patto per l'Europa lo vogliamo vedere. Se l'Europa ci chiede della Bolkestein di vendere queste spiagge che attualmente sono in concessione ai nostri balneari che ci hanno investito e hanno speso milioni e milioni di euro sulle nostre spiagge per essere poi invece accorpate, vendute quindi essere iscritte al patrimonio disponibile del demanio e vendute magari chissà a quale multinazionale noi non siamo con l'Europa quindi vogliamo non dire uscire all'Europa ma rimetterci seduti e ritrattare un attimino tutte tutte le varie cose e poi la legittima difesa legittima difesa è sempre legittima quindi in questo momento non siamo per la proposta Trump di armare i professori e i docenti ma siamo per essere per poterci difendere a casa nostra se tu entri di notte a casa mia e non penso che sei un benintenzionato se mi sfondi la finestra o mi sfondi il portone io avrò il diritto di difendermi o devo chiedere prima al ladro quali intenzioni c'ha e se mi vuole assalire con la pistola se mi vuole dare il bastone qui sopra scusi buon uomo forse un attimino dobbiamo rivedere però la domanda che mi fa lei è specifica e mi piace molto perché io dico sempre che ai temi nazionali che ho appena elencato e l'ultimo lo dico è lo integro con il discorso locale è la flat tax al 15 per cento è una nostra guerra che vogliamo portare avanti una nostra battaglia si innesca con il discorso locale noi stiamo facendo una grossa battaglia a livello di lavoro il lavoro deve essere il primo tema da portare a Roma il lavoro noi in questo distretto abbiamo sicuramente una un'impresa calzaturiera che in questo momento è in forte crisi non significa che non abbiamo le risorse significa che le persone che stanno lavorando stanno lavorando con difficoltà perché perché la burocrazia ci sta impedendo di procedere agevolmente quindi il marchio made in che non costa niente a allo stato quindi riconoscimento non è il made in italy attenzione made in significa che se questi occhiali sono stati fatti in corea io vorrei che fosse scritto made in corea poi il cliente finale l'utente finale può decidere se questi occhiali possono essere acquistati o se possono valere magari 150 euro oppure no fatti in corea oppure decidere se questi occhiali sono stati fatti dallo sfruttamento viene il lavoro che viene fuori dallo sfruttamento dei bambini io decido di non comprarli quindi made in non made in italy e qui con l'asso calzaturifici e con l'imprenditore ciccola che ne è presidente della sezione di fermo stiamo portando avanti una grande battaglia nonché ci siamo anche incontrati con matteo salvini al micam di milano per ben tre volte e questo è diventato programma di governo tutela del made in e dell'industria sanzioni con la russia sanzioni con la russia devono essere tolte assolutamente noi non abbiamo sanzioni con la russia sul settore calzaturiero ma abbiamo sanzioni dell'agroalimentare e questo però fa sì che i maggiori hub scali nazionali che erano rimini e pescara oggi sono vuoti perché non vengono più russi a comprare in italia quindi dobbiamo un attimino rivedere certo che le dichiarazioni della signora mogherini che appena insediata al governo europeo sono state la russia non è un partner strategico sicuramente non ci hanno aiutato quindi insieme ai temi nazionali portare questi che sono i temi locali che è il discorso della calzatura e della difesa del made in italy questa è fondamentale per quanto concerne questo sempre il territorio sappiamo che è un territorio ferito un territorio che si sta rialzando dopo il terremoto un territorio che sta cercando di vedere nella ricostruzione un futuro una speranza e sicuramente partendo anche da quella che è l'edilizia scolastica che comunque è un punto focale della della sicurezza sul territorio come si pone la lega su questo tema e come si farà garante perché questa ricostruzione avvenga avvenga nei tempi che sono stati prefissati e possa dare anche una possibilità di sviluppo dopo l'emergenza la lega si pone benissimo sotto questo punto di vista nel senso che la seconda battaglia locale che appunto vogliamo fare dopo insieme non dopo in ordine di tempo insieme al discorso calzatoriero è proprio il discorso di terremoto ne siamo talmente convinti che all'uninominale senato per la regione e alla camera e scusi e al proporzionale senato a livello regionale abbiamo candidato il nostro amico Giuliano Pazzaglini che è sindaco di Visso perché Giuliano Pazzaglini Giuliano Pazzaglini non era della Lega eppure è stata fatta una deroga perché lei sa bene che nella Lega si va per militanze quindi per anni di appartenenza di lavoro sul sul campo però abbiamo fatto delle eccezioni e non abbiamo paracautato qua dei personaggi illustri da Roma o da Milano abbiamo voluto mettere delle persone che sono espressione del territorio in questo caso Giuliano Pazzaglini ci garantisce che cosa di lavorare per la ricostruzione dopo il sisma che c'è stato un anno e mezzo fa ormai e fa battaglie tutti i giorni per denunciare tutto quello che non va faccio un esempio io l'altro giorno stavo con il sindaco di Arquata che è noto non essere una persona di centro-sinistra e dicevo Petrucci sindaco ma come va la ricostruzione mi diceva Mauro dice ci hanno consegnato delle case in legno che sono estive hanno messo dei bolier per l'acqua sopra all'esterno che con il freddo e il gelo si sono spaccati e hanno fatto un massacro e hanno consegnato le case estive su territori che sono a 1200-1500 metri questo significa non avere cognizione di causa e quando si nomina prima Errani e poi il secondo commissario la donna che non ricordo il nome qui con come commissario per la ricostruzione persone che non sanno non conoscono il territorio non sono tecniche e non sanno come agevolare i territori quindi che cosa vogliamo fare noi dare potere ai sindaci perché sono loro che conoscono il territorio sono loro che hanno l'esigenza parlavo appena posto terremoto con un sindaco dell'entroterra non voglio fare nome perché non è di centrodestra lo metterei in difficoltà mi diceva io non posso toccare 400 euro per comprare una torre faro per illuminare subito dopo l'emergenza ma stiamo scherzando qui si sono dati contributi a pioggia contributi a pioggia in vari comuni e me ne vergogno un po io ho stato oggetto dell'ultimo consiglio comunale l'altra sera sul bilancio monte granaro ho proprio fatto un inciso su questo punto qui comuni fuori dal cradere hanno visto sovvenzioni per 2 3 4 5 6 7 milioni di euro da vergogna da vergogna comuni che ancora che sono nel cradere io sono stato dal quadro invito tutti andare dal quadro se potete entrare se riuscite a entrare nella zona rossa sembra un campo pieno di macerie dove è caduto un aereo non si capisce più dove stava il centro dove stava il centro storico dove stava la periferia sono delle colline piene di macerie allora io vorrei capire perché non si interviene lì in modo pesante come è stato fatto nella ricostruzione del terremoto dell'Aquila e perché questi contributi vengono dati con un solo criterio che si chiama pd pd senta siamo in conclusione del nostro incontro la vorrei invitare a fare diciamo un appello al voto quindi un momento che le riserviamo con i propri potenziali elettori per portare avanti le sue stanze e per fare in modo appunto che il 4 marzo in questo territorio i cittadini possano scegliere la Lega bene io invito tutti i cittadini a votare Lega in quanto è un partito che storicamente è vicino ai territori molti di voi in provincia di fermo mi conoscono sanno che io faccio l'agente immobiliare sanno che hanno che ho una storia dietro le spalle che nasce dall'associazionismo e continua con l'impegno sportivo con la sudor basket ero lo speaker storico al palasavelle di san giorgio e e sanno chi sono sicuramente sono una persona che vive il territorio sicuramente sono una persona che si è fatta le osse sul campo prima da consigliere comunale dal 1999 poi come assessore e piano piano mi sono fatto la famosa gavetta io so che riuscendo ad avere un bel un bel un bel numero di voti per la Lega quindi al proporzionale votare Lega il simbolo della Lega eccolo qua lo faccio vedere così tutti lo possono lo possono lo possono ricordare basta fare una croce sul simbolo e votare Lega significa significa fare leggere quattro eh dei nostri candidati in ordine naturalmente così come prevede la legge io sono al secondo posto benissimo noi ringraziamo Mauro Lucentini per essere stato con noi essere stato nostro ospite e le auguriamo insomma di concludere nel migliore dei modi la sua campagna elettorale arrivederci arrivederci Grazie a tutti